Ehi! Lenny! Non vedevo l'ora. Anch'io. Kim sta bene? Sì, non sembra cambiata. Lenny! Lenny! Signore, stia indietro! Non sono stato io. Mani in alto, avanti! Ricercato per omicidio. Nome del sospettato, Brian Mills. A 21 anni entra nell'esercito. A 23 nelle forze speciali. È un cecchino infallibile. Esperto di esplosivi. Nessuno stato di servizio. Foglio di congedo. Niente. Questo tipo qui sa come sparire. Ascoltami, Kim. È successa una cosa terribile a tua madre. Papà, che devo fare? non fidarti di nessuno. Ho fatto delle cose nella mia vita. Ed ero pronto ad affrontare le conseguenze. Per proteggere la mia famiglia. Che cosa sai? Quello che so è che presto tutte le persone che ami moriranno. Qual è la sua priorità, Ispettore? Il mio compito è portarti dentro. La mia priorità è proteggere ciò che mi è rimasto. Ora che farai? Metterò fine a questa cosa. È inutile che scappi. La polizia di Los Angeles. L'FBI. E la CIA. Ti daranno la caccia. Ti troveranno. E ti fermeranno. Buona fortuna. Buona fortuna.